Che ore sono? Che giorno è? Come si dice l'ora in italiano? Per l'ora si usa il verbo essere. La domanda è che ora è? O che ore sono? In italiano contiamo le ore. In italiano we count hours. Contiamo le ore. Quante ore ci sono? Ventiquattro. How many hours are? Twenty four. In italiano usiamo l'orario militare. Twenty four hours. But sometimes we can say noon, mezzogiorno. Or midnight, mezzanotte. So if we name those hours, they're singular because it's a particular hour. Or one, luna. È mezzogiorno, è mezzanotte, è luna. Quindi le altre ore sono numeri. E le ore sono femminili. So we need to use le because le ore. Sono le sei. Sono le dieci. For i minuti, for i minuti, semplicemente diciamo i minuti. Cinque, sono le quattro e cinque. In familiar time we can also say another way. A quarter or ten to, ten to three. In italiano si dice sono le tre meno dieci. Si può dire un quarto o quindici, ma di solito è per informale. Per l'orario formale abbiamo solo l'orario militare. E quindi diciamo tutto. Exactly like it is. So say the complete number. So for example this one. If it's one p.m. So sì, sono le tredici e quindici. For familiar time we would say è l'una e un quarto. We can add also del pomeriggio, di mattina, ma di solito questo è evidente. Ma normally this is evident because we normally use this in familiar time. For official time is 24 hours. Ventiquattro ore. So if I want to ask what time is Italian lesson. So the question it is a che ora è la lezione d'italiano. So a che ora. So the answer would be at and we have to say alle, alle in italiano. O se è singolare, it would be all'una. All'una. Questo perché combiniamo la preposizione a più l'articolo. This is why we combine the prepositions a plus the article. Then if we want to say at noon, we simply say a mezzogiorno and at it. Ok, a che ora arriva il treno? Arriva alle 16 o alle 4 e 30 del pomeriggio. Alle 16 e 30. Ecco qui i giorni della settimana. I giorni della settimana abbiamo lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica. Tutto questo li vedete anche sulla pagina di Canvas. Ci sono più spiegazioni nella pagina di Canvas. Allora, vedete, con i giorni della settimana non si usano le preposizioni, ma si usa semplicemente o l'articolo Il lunedì ho una lezione in italiano quando è un'azione ricorrente. So that means every Monday. O lunedì vado in biblioteca, that means on Monday I'm going to the library. So it's not a current action, but that Monday. So you see, we don't use the article.